Volevo rassicurare gli operatori economici che in queste ore si sono preoccupati, le occupazioni che sono state inviate ai nostri uffici e che sono state inviate al SUAP, che sono quelle che ovviamente sono state autorizzate a seguito della delibera di giunta, la numero 168, sono salve, perché ovviamente sono in linea con l'articolo 15 del regolamento DEORS, che ovviamente nei suoi criteri di collocazione esplica il rispetto col codice della strada e con tutti ovviamente gli elementi che consentono ovviamente la massima vivibilità del territorio, quindi quelle sono assolutamente confermate. Nessuna interruzione dei procedimenti amministrativi dunque, restano valide a tutti gli effetti le richieste pervenute ed anche quelle future, relativi ad occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi, nei tratti prospicenti le attività, nelle aree pedonali urbane e nelle ZTL. Queste occupazioni sono già sottratte per norma nazionale al parere della sovrintendenza e alle norme edilizie, mentre la sospensione del TAR riguarda solo i progetti complessi, in aree non immediatamente prospicenti o non pedonali, come chiarisce l'assessore al commercio ai nostri microfoni. Vi è ovviamente un aspetto che va analizzato, che era quello che già tra l'altro era previsto all'interno dell'impianto che era presente all'interno della delibera, che erano i progetti complessi, che in questo momento sono comunque accettati dagli uffici attraverso comunicazione via PEC. Il diritto ovviamente è materia che ci consente di trovare molteplici soluzioni, quindi il nostro provvedimento in questo momento va avanti, questo lo dico ovviamente per confortare tutti gli operatori che in queste ore ci stanno contattando e che grazie a questo provvedimento che ricordo ricalca un provvedimento nazionale che noi abbiamo fortissimamente voluto in sede ANCI e che è presente all'interno del decreto rilancio e che stabilisce appunto delle procedure che siano quanto più possibile sburocratizzate, che ovviamente esulano da alcuni pareri legati a sovraintendenza che normalmente invece sono presenti all'interno degli idori ordinari, quindi non siamo impazziti in amministrazione ma abbiamo seguito fedelmente il rispetto delle regole, è un provvedimento che in questo momento ricordo dà sostegno e dà speranza a tanti operatori che dopo questi mesi di chiusura in questo momento si ritrovano soli, questo era un provvedimento ed è un provvedimento col quale diamo sostegno alle attività produttive in città, qualcuno racconta che in città non c'è la crisi, che in città non c'è la paura di perdita di posti di lavoro, i dati stamattina che vengono consegnati dagli studi ANCI e degli operatori finanziari ci restituiscono una realtà diversa, questo è un provvedimento che sostiene fortemente la ripresa della città, che dà ovviamente forza a chi in questo momento ha difficoltà a riaprire la propria attività, ha difficoltà a mantenere quella che è un'attività che è frutto di sacrifici di una vita e che dà la possibilità di non far perdere posti di lavoro. Chi in questo momento non comprende questo, non comprende che è necessario per la città fare delle scelte coraggiose, noi saremo sempre dalla parte degli operatori, saremo sempre dalla parte di chi in questa città sostiene in maniera sana l'economia e quindi ecco perché questo provvedimento va avanti, quindi mi sento in questo momento di spegnere qualunque dubbio su chi pensava ovviamente di dover effettuare la rimozione delle proprie occupazioni di suolo, questo provvedimento ha vita piena e quindi questo è un ulteriore elemento che l'amministrazione insieme a tanti altri provvedimenti che ha messo in piedi con forza rimarca a sostegno degli operatori economici.